Sono oltre 44.000 i cittadini che, residenti nei quartieri genovesi e nei comuni della città metropolitana maggiormente interessati dai disagi legati al crollo del ponte Morandi, usufruiscono del servizio di distribuzione dei farmaci salvavita nelle farmacie territoriali vicine alla loro casa, evitando così di doversi recare periodicamente nelle farmacie ospedaliere del capoluogo Ligure. È quanto emerso dal modito raggio dei dati realizzato da Lisa e Asletre Genovese nell'ambito delle misure adottate dal sistema sanitario regionale per far fronte all'emergenza determinata dalla tragedia del 14 agosto scorso. Solo in Val Polcevera, spiega la vicepresidente e assessora alla sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, ci sono più di 6.100 pazienti residenti che, grazie a questo servizio avviato in via sperimentale il 1 marzo scorso, non devono più recarsi presso le farmacie ospedaliere, ma trovano il farmaco di cui hanno bisogno nella farmacia vicina a casa. Si tratta di una misura che va incontro alle esigenze dei cittadini, aggiunge la Viale. Ancora più in questa fase di emergenza legata al crollo del ponte, grazie alla distribuzione per conto dei farmaci, ci sono 44.000 persone in meno che attraversano la città, con un evidente impatto positivo anche sulla viabilità complessiva.